Abbiamo parlato di Pancaro, il mio fratello destro per dare la leggea, per mandare in onda il secondo contributo di Marcello Pitino, che ci parla di Pippo Pancaro come un predestinato, cioè un po' sulla scorta di Montella, di Mihailovic, lui trova delle somiglianze, delle affinità, con dei segnali di possibile grandezza da parte di Pancaro come allenatore. Certo, tutta una carriera da scrivere ancora davanti, però sentiamo un po' Pitino cosa ci dice di Pancaro, poi con la legge di mandare in onda la seconda parte dell'intervista a Pitino. Pancaro, mi diceva lei, un predestinato sulla scia di Montella o di Mihailovic, cosa la induce a dire ciò? Ma è un pensiero nostro, è un pensiero della società nella scelta dell'allenatore. L'allenatore in questo primo periodo, in questa prima parte, è stato un anello fondamentale nella costruzione di questa catena. Diciamo che ha gestito in maniera incomiabile e perfetta questi primi due mesi, quando addirittura all'inizio per più di 20 giorni eravamo in 45 con tutti quei giocatori che dovevano andare via, ma noi dovevamo rispettare l'impegno di fargli fare la preparazione e non è stato un momento facile. Lui ha avuto la capacità, l'abilità di gestirli nella maniera migliore, tant'è vero che chiunque è andato via è andato via contento e soddisfatto dell'operato dell'allenatore, sia dal punto di vista gestionale che anche per quanto riguarda la qualità di quello che l'allenatore ha dato in campo. Quindi queste pregiudiziali, oltre al fatto che ci ha dimostrato di essere una persona seria, corretta, determinata, caparbia, che ha proprio tutte quelle qualità che noi abbiamo detto prima, può essere uno che io gli ho detto così in maniera riservata, predestinato, e può seguire la scia di quei grandi tecnici che hanno storicamente il Catania futuro. Trattative per la gestione della società. Ha mercato chiuso, le voci però si continuano comunque a rincorrere. Per fare chiarezza, qual è lo stato dell'arte, posto che la società ha appena detto che la società è in vendita per l'appunto, ma che il valore va determinato ancora? Ma sono cose che dirà il nostro direttore generale, è consuntivo della nostra campagna trasferimenti e di tutto quello che sarà. Sarà lui a spiegare queste cose. Abbiamo parlato di cose tecniche ed è giusto che sia così. Posso fare solo un piccolo appunto personale nel dire che ad oggi la proprietà ha sempre palesato l'intenzione di cedere la società. Non credo che si poteva determinare un prezzo prima che non fosse chiusa la campagna trasferimenti e quindi formato il nuovo organico. Poi sono i costi maggiori per una società, quindi chiunque acquisisce deve sapere a cosa va incontro, tranne che non trovi la persona che dice compro ho tutto a scatola chiusa, come è successo dieci anni fa con Pulvirenti e con Gauci e poi quello che viene, viene. Quindi queste sono due valutazioni personali che in ogni caso ci sono le persone atte adesso che la società ha messo a disposizione per chi volesse acquisire il Catania Calcio ad occuparsi di questo. Noi lavoriamo semplicemente su quello che è la parte tecnica del resto poi avrete modo con il direttore Bonanno di dichiarire ulteriori cose.